Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra Cycling Lens TV, la puntata numero 293. Siamo in dirittura d'arrivo con il recupero che stiamo attuando da diverse settimane per quel che riguarda le gare estive e nelle prime settimane dell'autunno. Gare di cui abbiamo immagini, interviste, cronache naturalmente e sono in tale numero che ci hanno in un qualche modo obbligato ad arrivare fino a questo momento dell'anno per raccontarvele tutte o quasi. Ma non potevamo metterle nel cassetto senza averle condivise con voi, intanto perché sono spettacolari, perché sono divertenti, perché ci fanno vedere, questo ben lo sapete, magari futuri campioni o campionesse come stiamo per vedere tra brevissimo. E poi perché ci mostrano anche degli splendidi territori per andare in bici, sia a livello amatoriale sia a livello cicloturistico, che è poi, lo capite anche dal nome della trasmissione, una delle nostre mission principali. Partiamo allora con una gara al femminile, è la seconda edizione, era la seconda edizione ma si sta già affermando nel panorama nazionale, si tratta della seconda Coppa Città di San Daniele in Rosa. San Daniele del Friuli torna ad aprire le proprie strade al ciclismo femminile, è la giornata della seconda edizione della Coppa Città di San Daniele in Rosa, riservata alle donne open. In gara ragazze dai 17 anni sino ai 27 per una sfida che si disputa sulla distanza dei 107 chilometri, disegnati sul circuito che da San Daniele arriva sino al Castello d'Arcano per il Gran Premio della Montagna che viene ripetuto per ben 6 volte. Sono un centinaio le ragazze che si schierano ai nastri di partenza sotto lo sguardo attento dell'assessore allo sport Silvano Pilosio e della presidente di We Like Bike di San Daniele del Friuli, Francesco Ciani. Ad abbassare la bandiera scacchi per la partenza ufficiosa avvenuta sulle strade del centro di San Daniele, proprio l'assessore allo sport Silvano Pilosio. Tratto di trasferimento per raggiungere il chilometro zero dove c'è una commemorazione importante da fare. Infatti questa manifestazione si corre proprio in memoria di Silvia Piccini, la giovane ragazza che vestiva i colori dell'UC con scio pedale del sile, che rimase vittima di un incidente stradale mentre si trovava in allenamento proprio sulle strade di San Daniele del Friuli. E gli organizzatori con il presidente dell'Unione ciclisti sandanielesi Sergio Marcuzzi in testa hanno voluto ricordare questa giovane ragazza con la deposizione di una composizione floreale in suo ricordo. Lì a salutare le atlete nella commozione generale anche la mamma di Silvia Piccini. Ed è proprio lei ad abbassare la bandiera a scacchi che fa scattare ufficialmente l'edizione 2023 della Coppa Città di San Daniele Rosa. Una giovane corsa questa messa in cantiere come detto dall'Unione ciclisti sandanielesi che ha già riscosso particolare interesse a livello nazionale ed internazionale. Infatti il plotone delle ragazze in gara comprende anche alcune formazioni proveniente dall'estero e questo va quindi ad impreziosire una sfida che si corre già su un tracciato decisamente tecnico e interessante sia dal punto di vista paesaggistico storico e culturale e anche ovviamente anche dal punto di vista squisitamente agonistico. Primi chilometri di gara con il gruppo che procede compatto sono i saliscendi a decretare una minima selezione da dietro ma fondamentalmente il plotone continua a sfilare sulle strade del territorio sandanielese pressoché compatto un po' allungato grazie al forcing di alcune atlete ma per il resto tutte le altre rimangono lì sulle ruote. La prima edizione di questa grande corsa è stata vinta lo scorso anno da Silvia Zanardi della B-Pink che si era riuscita ad imporsi su un drappello che aveva fatto la selezione nella finale di gara. Anche quest'anno la Coppa Città di San Daniele Rosa è inserita nella Challenge Open Femminile Friuli Venezia Giulia Trofeo Adimo che si era aperta sulle strade di Valvasone con il 28esimo giro della provincia di Pordenone riservato anche in quel caso alle donne Open. Intanto nuovo passaggio sulla retta d'arrivo questa rampa in leggera salita che è divenuta classica conosciuta in tutto il mondo proprio grazie alla Coppa Città di San Daniele. Lì nelle primissime posizioni a combattere già per i traguardi e volanti abbiamo visto una brillantissima Silvia Zanardi. Lei è la vincitrice uscente, ci tiene a far bene dunque anche quest'anno l'atleta della B-Pink che rimane sempre nelle primissime posizioni. Ma quando siamo nuovamente sulle rampe della Castello d'Arcano vedete che ad allungare con grande decisione è Alessia Vigilia, la portacolori della Top Girl Fassa Bortolo. Riesce a guadagnare subito una manciata di metri e poi riesce a scavare un solco incolmabile su tutte le inseguitrici. Scollinamento al penultimo Gran Premio della Montagna per Alessia Vigilia che riesce dunque a fare la differenza. Lei che in questo 2023 ha raccolto ben sette successi sino a questo punto. Tra gli altri anche il titolo di campionessa italiana nella cronometra squadra e va a transitare al suono della campana con un vantaggio significativo che la vede viaggiare con ben due minuti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Un fisico da passista scalatrice è quello di Alessia Vigilia che prosegue decisa verso il traguardo. Alle sue spalle intanto il trappello inseguitore è composto da una ventina di unità procede a scatti e questo non fa che aiutare l'azione di Alessia Vigilia generosissima grande protagonista di questa seconda edizione della Coppa Città di San Daniele Rosa che è già ormai proiettata verso una finale da assoluta dominatrice. Una ragazza che si è messa in luce soprattutto quest'anno Alessia Vigilia è che ormai pronta al grande salto verso il mondo del World Tour. Siamo alle battute conclusive con la battistrada che si presenta sulla retta d'arrivo con un vantaggio più che mai rassicurante, ben quattro minuti sulle inseguitrici e va così a godersi l'applauso dello sportivissimo pubblico di San Daniele a tagliare la linea del traguardo a braccia alzate. Ottava vittoria stagionale per la porta colori della top girl Fassa Bortolo che sorride dopo il traguardo e ne ha sicuramente tutti i motivi. Si sprinta invece per il secondo posto, da giudicarsi la volata delle inseguitrici, è Silvia Zanardi della B-Pink che precede Francesca Tommasi della Mendelspec. Seguono quindi Elisa Valtulini e Giulia Giuliani della GB Junior Team, Beatrice Rossato della Isolmant, Andrea Casagranda della B-Pink, quindi ancora Michela De Grandis, Lucia Brillante Romeo e Giorgia Vettorello. Per quanto riguarda la classifica delle Juniores, da segnalare la vittoria quindi di Lucia Brillante Romeo della Valcar Travel & Service che precede Camilla Lazzari del Team Willier e Alessia Zambelli del Team Isolmant. Ed ora spazio alle interviste raccolte nel dopogara. Alessia Vigilia, un altro splendido assolo, questa volta sulla rampa della città di San Daniele. Sì, sono molto contenta per questa ennesima vittoria. La dedico alla mia squadra che anche oggi ha fatto un lavoro eccezionale. Ci abbiamo provato tante volte, sia io che Cristina Tonetti, che soprattutto anche Gaia, Segato e anche le altre ragazze. Ci abbiamo provato fino alla fine, alla fine è stata mia la stoccata vincente, però è comunque un lavoro frutto di tutta la squadra e sono molto contenta. Senti, quando te ne sei andata da sola mancavano ancora tanti chilometri, cosa hai pensato? Eh niente, pensavo che sarebbe stato un tentativo, ma che mi avrebbero comunque ripreso e poi speravo che nel momento giusto potesse avvantaggiarsi qualche altra mia compagna. Invece alla fine ho visto che il vantaggio aumentava e poi ho iniziato un po' a crederci. Sapevo che era una vittoria importante comunque per la squadra e niente, è andata bene. Si chiude la stagione 2023, San Daniele porta fortuna. Un grande salto ti attende adesso? Sì, diciamo che mi mancano ancora due gare prima di chiudere ufficialmente la stagione, però questa è la mia ultima gara Open e ci tenevo a ringraziare la squadra per la possibilità che mi ha dato in questi due anni di crescere, di migliorare e comunque di poter fare il salto nel World Tour che non era affatto scontato e quindi niente, è andata così. San Daniele Rosa allora che in un qualche modo celebra anche questo passaggio di categoria così come l'abbiamo sentito nell'intervista finale. Altra gara molto importante è la Cinque Laghi che è invece riservata agli allievi, importante anche perché si tratta dell'edizione numero 72. Come sempre l'andiamo a vedere ed ascoltare grazie alle immagini e le parole dell'amico e collega Andrea Finna. Anche quest'anno la stagione degli allievi in Veneto va a chiudersi con il Giro dei Cinque Laghi. Classica riservata appunto agli allievi, messa in cantiere dagli uomini del gruppo sportivo Frare Denardi, giunta alla 72esima edizione. Una grande classica per la categoria, quella che si corre proprio nell'ultima domenica a disposizione di questi ragazzi. In prima fila nel plotone che si schiera piano piano ai nastri di partenza abbiamo visto le maglie del Velo Club San Vendemiano in quella che potrebbe essere l'ultima apparizione per il soldalizio nero-verde nelle categorie agonistiche. Infatti dalla presidente Fabrizio Furlan è stato annunciato la chiusura dell'attività per quanto riguarda esordienti allievi. Si proseguirà invece con il vivaio dei giovanissimi e questa potrebbe essere quindi l'ultima passerella per le maglie nero-verdi del San Vendemiano. All'abbassamento della bandiera Scacchi, alla chilometro zero, abbiamo visto il presidente della Frare Denardi, Maurizio Montini, accompagnato dalle autorità e in particolare dal presidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione Ciclistica Italiana, Sandro Checchin. Primi colpi di pedale intanto per il gruppo composto da 84 atleti che si sono schierati al via impegnati sulla distanza degli 82 chilometri e 600 metri. Percorso ondulato, nella prima parte si va verso il lago di Revine, poi si va a scalare il passo Fadalto per la prima volta, giro intorno al lago di Santa Croce, si ritorna nuovamente dal passo Fadalto, quindi il passaggio a Savassa, la discesa verso i laghi blu e la nuova ascesa per poi buttarsi giù verso Porta Cadore, verso Vittorio Veneto, verso gli ultimi mille metri completamente in salita. Percorso tradizionale con un finale che si ispira a quella che è la Freccia Vallone con il muro di Wui ad ospitare le gesta di coloro che provano a conquistare questo grande alloro. Una ultima uscita stagionale che dunque consente agli atleti ormai prossimi al passaggio tra gli juniores di concedere gli ultimi saluti della stagione, invece per coloro che sono al primo anno già pronti a proiettarsi in quella che è la seconda stagione in questa categoria, quella degli allievi che segna un po' il passaggio dal ciclismo interpretato come gioco ad una attività sportiva un po' più impegnativa e sicuramente pronta a fare da trampolino di lancio verso le categorie internazionali. Con le nostre immagini siamo già al passaggio da Porta Cadore, sono già stati compiuti i primi 30 km con il plotone che pedala veloce ma sempre pressoché compatto. Media di poco superiore ai 40 km orari, per quanto riguarda la prima ora di gara intanto ci si dirige verso il passo Fadalto. A condurre il gruppo le maglie della Bruno Gaiga Campi Antincendi, la formazione scaligera che vede in prima posizione del gruppo Marcello Grisi a dettare il ritmo. Ma sulle ruote della Porta Colori Giallo Blu ci sono tutte le formazioni più attese al via, vale a dire la Sandrigo Bike, la SC Padovani e quindi anche la Borgomolino Vigna Fiorita. Si sale verso il Fadalto, vedete forte vento contrario rispetto alla marcia degli atleti in gara, un elemento che sicuramente scoraggia gli attacchi. Si procede quindi a gruppo compatto e la selezione avviene soprattutto nelle retrovie. Un gruppo che va quindi ad assottigliarsi quando ci si avvicina al primo vero Gran Premio della Montagna di giornata, ancora un plotoncino di una cinquantina di unità a comandare la corsa. Maglie della Borgomolino Vigna Fiorita che vanno a transitare in prima posizione sul Gran Premio della Montagna del passo Fadalto dove vedete il gruppo passa in lunga fila indiana. La prima parte del plotone conta una quarantina di unità ma quando si imbocca la discesa verso il lago di Santa Croce si susseguono i rientri in testa alla corsa e questo fa sì che il gruppo torni dunque ad infoltirsi. Un splendido passaggio questo sul lago di Santa Croce con la direzione corsa affidata a Giulio Denardi e Daniele Borsoi. La gara procede veloce e in testa al gruppo si registrano i primi veri attacchi di giornata. Ad andarsene sono Emanuele Franzo della Bannia insieme a Tito Rocchi della FDB Sport Club che riescono a guadagnare una decina di secondi di vantaggio prima di essere riassorbiti dal gruppo. È a questo punto che in contropiede nasce l'azione di Nicola Belvedere, atleta trevigiano della Velo Club San Vendemiano. L'abbiamo detto in apertura di cronaca. Questa potrebbe essere l'ultima passerella almeno per ora della Velo Club San Vendemiano così come annunciato dal presidente Fabrizio Furlane. I ragazzi della San Vendemiano ci tengono a ben figurare in questa manifestazione. Viene raggiunto anche Nicola Belvedere quando si imbocca la strada nuovamente per tornare verso il passo Fadalto e ad allungare a questo punto il dorsale 95. Si tratta di Cristian Leoni della San Drigo Bike che tenta di andarsene tutto solo guadagnando ben 20 secondi di vantaggio sul gruppo. La strada sale sempre leggermente in questa fase e poi diventerà più impegnativa. Pedalata dopo pedalata si torna in quota. Alle spalle di Leoni però si organizzano i portacolori della Borgomolino-Vigna Fiorita e soprattutto quelli della SC Padovani che conducono l'inseguimento alla Battistrada e riescono a raggiungerlo quando siamo a poco più di due chilometri dal nuovo scollinamento sul Fadalto. E quindi il gruppo torna compatto, i giochi si riaprono quando abbiamo già superato ampiamente il cartello di metà percorso ed entriamo nel vivo della 72esima edizione del Giro dei Cinque Laghi. Nuovo passaggio su sella Fadalto con ancora una volta le maglie della Borgomolino-Vigna Fiorita a comandare le operazioni. Gruppo ancora però compatto anche se allungato. Inizia ad accumularsi la fatica nelle gambe dei ragazzi protagonisti di questa ultima grande classica di fine stagione però l'appuntamento fa gola a tanti e sono tanti i ragazzi che vogliono mettersi in luce in questo frangente. Si torna di nuovo dopo il passaggio di Savassa verso sella Fadalto e sono ancora una volta le maglie della Borgomolino-Vigna Fiorita a dettare il ritmo questa volta con Tommaso Marchi che nel frattempo si era reso anche protagonista di un tentativo solitario poi rintuzzato dal gruppo un plotone che inizia ad assottigliarsi in maniera cospicua. Infatti rimangono una quarantina di atleti a comandare la corsa. Sono questi ormai che potranno giocarsi il successo in questa edizione 2023 della Giro dei Cinque Laghi si esce dalla statale d'Alemagna, si imbocca la strada che conduce verso i Laghi Blu un panorama mozzafiato quello che vanno ad incontrare in questo caso gli atleti in gara ma per loro sicuramente non c'è tempo per guardarsi intorno perché arriva qui proprio il momento più impegnativo del Giro dei Cinque Laghi. Una scalata di poco più di 3,5 km con pendenze che vanno anche in doppia cifra e quindi in testa al gruppo gli scalatori iniziano ad imporre il proprio ritmo è un ritmo tambureggiante quello portato avanti da Mattia Fracasso del cycling team Petrucci sulla cui ruota abbiamo visto Lorenzo Campagnolo mentre alle loro spalle nelle retrovie del gruppo si inizia a perdere contatto e quindi questa è la selezione che si avvicina verso il traguardo e che va quindi a ridurre la rosa dei pretendenti al successo quando siamo ormai in vista dello scollinamento a rilanciare l'azione però è Andrea Cobalchini, atleta vicentino della San Drigo Bike al secondo anno nella categoria ha già fatto vedere delle buone cose in salita durante tutta la stagione ed è lui a scollinare per primo ad imboccare la strada che condurrà nuovamente verso Porta Cadore da dove si svolterà a sinistra si andrà ad affrontare gli ultimi mille metri in salita subito dopo lo scollinamento però raggiungere e superare Cobalchini è Brandon Fedrizzi della Forti e Veloci che accelera subito come la strada inizia a scendere guadagnando anche qualche metro su Cobalchini poco più indietro attenzione a Edoardo Ospizio anche lui del cycling team Petrucci e questi tre atleti proprio nel tratto di discesa riescono a guadagnare una quindicina di secondi sui più immediati inseguitori e quindi quando siamo già entrati negli ultimi 10 km di corsa troviamo al comando Cobalchini, Fedrizzi e Ospizio che viaggiano con una manciata di secondi sui più immediati inseguitori gruppetto degli inseguitori composto da una dozzina di unità qualcuno si aggiunge anche nel tratto in discesa in tutto sono una ventina gli atleti che rimangono al comando in questo frangente e quando la strada torna in pianura vedete sulle ruote del terzetto al comando va a ricomporsi il drappello dei migliori di giornata ancora girandola di scatti in testa al gruppo con Brandon Fedrizzi sempre pronto, brillante a mettersi sulla ruota di tutti coloro che tentano di andarsi in solitaria in questo caso è un portacolori della ciclistica sacilese ma per loro il vantaggio è davvero minimo con Andrea Moretti e Brandon Fedrizzi che vengono raggiunti ben presto dagli inseguitori per un finale che vede ancora una volta il gruppo dei migliori di giornata radunarsi quando manca ormai pochissimo agli ultimi mille metri l'abbiamo annunciato questo finale classico del Giro dei Cinque Laghi che si ispira alle grandi classiche del nord in particolare alla Freccia Vallone che si conclude sul Muro di Ui e anche in questo caso il Giro dei Cinque Laghi da Porta Cadore sale ripidamente verso il traguardo il pubblico delle grandi occasioni è già schierato sulla salita conclusiva intanto in gruppo si fanno i conti con le ultime energie residue si cerca di capire chi sia ancora più brillante chi possa dare il meglio negli ultimi mille metri in salita transitiamo nuovamente da Porta Cadore svolta a sinistra secca si transita proprio sul ponte di Pietra che conduce verso la parrocchiale per poi andare a salire verso il traguardo e a questo punto a prendere l'iniziativa sono i portacolori della bannia in particolare attenzione a Christian Pighin è lui che va ad accelerare con grandissima decisione nei primi metri di salita tenta di sorprendere tutti il dorsale 57 Christian Pighin che guadagna anche qualche metro di vantaggio ma poi la sua azione si spegne sulle ruote di Pighin tornano i migliori di giornata ancora una volta le maglie della Sacilese della Gaiga del team Petrucci e sono proprio quelli della formazione scaligera che vanno nuovamente ad allungare dorsale 52 con Mattia Fracasso sulla cui ruota vediamo anche Guido Viero poco più indietro Campagnolo e Brandon Fedrizzi la volata parte lunghissima quando siamo ancora ai 350 metri con Fracasso in testa ma attenzione a ciò che succederà proprio negli ultimi metri infatti è Brandon Fedrizzi della Forti e Veloce a trovare le energie necessarie per battere tutti guadagnando anche qualche metro di vantaggio prima della linea del traguardo e quindi successo quinto successo stagionale per Brandon Fedrizzi che precede sulla linea d'arrivo Guido Viero della Bruno Gaiga quindi terza piazza per Lorenzo Campagnolo della Borgomolino Vigna Fiorita quarto Edoardo Ospizio del team Petrucci quinto Andrea Moretti della Sacilese seguono Fracasso, Pighin, Dalle Crode, Cobalchini e Sartori Brandon Fedrizzi il 2023 si chiude in bellezza si è chiuso benissimo con uno sprint veramente bello una gara regolare poi tutto si è deciso qui negli ultimi mille metri sì c'erano parecchi scatti la Borgomolino comandava la corsa e siamo arrivati compatti all'ultima salita e ora ho turraggio mi era corto però sono riuscito a fare lo sprint e a riuscire a vincere questa gara e crediamo con questa di aver recuperato non posso dire tutto ma quasi tutte le gare di cui siamo entrati in possesso durante i mesi estivi e appunto le prime settimane d'autunno ci fermiamo qui sostanzialmente in chiusura d'anno scavallando l'anno entrando in quelli che sono i mesi anche più freddi di tutto l'anno appunto chiusura 2023 inizio 2024 sarà invece mia cura portarvi in territori da esplorare da godere in bicicletta con ben altre temperature ma questo lo scopriremo a partire dalla prossima puntata per ora ci fermiamo qui era la numero 293 di Cycling Lens TV come sempre appuntamento alla prossima settimana